Benvenuti sul nostro canale News Gossip World. Eccoci di nuovo, appassionati spettatori, in un episodio carico di suspense e intrighi, che vi terrà incollati allo schermo fino all'ultima parola. Pronti a scoprire cosa si cela dietro le quinte dell'impero di Chiara Ferragni? Ricordate, quei giorni gloriosi in cui Chiara Ferragni esaltava il suo best team sui social, celebrando ogni vittoria, con i suoi preziosi collaboratori? Ma attendete un attimo, perché le acque sono diventate turbide. Una tempesta di scandali, iniziata con il tumulto dello scandalo Pandoro, ha scatenato un terremoto all'interno della sua squadra. L'antitrust ha scagliato una multa devastante, e ora l'onda d'urto minaccia di travolgere tutti coloro che gravitano attorno all'influencer. Sembra che nessuno sia al sicuro. Fabio Maria D'Amato, il manager di fiducia, potrebbe non essere l'unico ad essere sulla lista nera. Chiara, potrebbe presto voltarsi contro i suoi più stretti alleati, coloro che ha scelto con tanto amore e dedizione nel corso degli anni. Luisa Lozupone, il braccio destro di Chiara nella comunicazione, una volta celebrata come il miglior capo di sempre, ora si trova nel cuore di una tempesta. Con collegamenti intriganti e relazioni che si estendono a livelli insospettabili, il suo futuro sembra incerto. Poi c'è Chiara Calais, la mente brillante dietro la Beauty Division. Con un percorso accademico stellare e una carriera in ascesa, quale sarà il suo destino in questo intrigo crescente? E che dire di Manuele Mameli, l'artista del make-up che ha trasformato l'aspetto di Chiara in numerosi momenti cruciali della sua vita? Un legame che sembrava indissolubile, ma ora le ombre si addensano. Barbara Di Poggio, l'assistente personale dedicata di Chiara, sembrava essere la roccia su cui l'impero si basava. Ma con un passato in brand famosi e una fedeltà apparentemente inossidabile, quanto tempo rimarrà ancorata a questo naufragio in atto? E così, cari amici, ci avviciniamo al termine di questo episodio ricco di tensione e mistero. Continuate a seguirci e mi raccomando iscrivetevi a questo canale, per le ultime aggiunte a questo avvincente capitolo. E ricordate, dietro ogni successo ci sono segreti, e dietro ogni sorriso c'è una storia. Alla prossima!